Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati qui su Pausa Caffè. Si ricomincia con il grande fratello VIP. Questa è l'ultima settimana di piene notizie riguardante il programma e si parte subito dalla scoperta dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi. Come ogni anno si sa che il reality show di Alfonso Signorini rappresenta per il pubblico italiano un appuntamento che è sempre imperdibile. Ogni edizione ha i suoi protagonisti indiscussi, personaggi unici, quasi certi si ripetono qualche volta. E questa volta il riconoscimento va appunto all'ex schermitrice, cioè Antonella Fiordelisi. Ovviamente vorrete sapere il motivo. Ebbene, la scoperta arriva proprio dopo la sua eliminazione dal gioco. La scoperta dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi. Ebbene sì, sembra proprio che il reality show di Alfonso Signorini senza la presenza di Antonella non sia più lo stesso. Tante le vicende avvenute in questi mesi che l'hanno vista la protagonista indiscussa della casa più spiata d'Italia e questo accadeva con o senza il suo Edoardo Donnamaria al proprio fianco. Questo lo direbbero proprio i dati di Ascolto TV registrati dopo la diretta quotidiana del programma che come in molti hanno sempre seguito su Mediaset Extra. Dati alla mano dunque, la scoperta riguarda proprio un evidente calo di ascolti dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi. Alla luce di ciò e a un passo dalla vittoria, sono in molti a chiedersi se gli autori del programma adotteranno o meno alcune strategie per rilanciare il programma. Insomma, un calo di ascolti considerevole come si diceva all'inizio e non occorre fare altro che guardare ai numeri. Il programma trasmesso in diretta su Mediaset Extra, come riporta Leggo, ha registrato un netto peggioramento conquistando solo 300 spettatori e arrivando a toccare uno share di 0,01%. Eppure oltre a chi attribuisce il fenomeno all'eliminazione di Antonella, esiste anche chi tira in ballo la squalifica di Daniele Dal Moro. Ma non solo. Per alcuni utenti, tutto questo potrebbe avere solo un carattere temporaneo dovuto anche alla concorrenza che giorno dopo giorno il GFVIP vive con altri programmi, un'ipotesi che sposerebbe i grandi colpi di scena che concede il mondo dello spettacolo e della televisione. Non resta che scoprire quale sarà la prossima mossa degli autori della trasmissione, ammesso che avvenga.